E' andato all'associazione Izzol e associazione Down Pistoia, ricavato della lotteria di Befana accendi la solidarietà, spegne l'indifferenza dei Vigili del Fuoco di Pistoia che hanno raccolto quasi 6.000 euro destinati alle azioni di inserimento e autonomia che l'associazione promuove per ragazzi con la sindrome di Down. La consegna si è svolta con quella dei premi ai vincitori della lotteria negli spazi della Casa Sicura, che progetto unico in Italia sarà inaugurato dai Vigili del Fuoco l'11 maggio offrendo un inedito percorso didattico contro gli infortuni domestici. La lotteria dell'Epifania ha messo in palio al primo posto un carrello della spesa da 500 euro, al secondo un soggiorno a Gartaland al terzo un compleanno per 30 amici a Wonder Park. A vincere quest'ultimo una signora che con un bel gesto lo ha subito donato all'associazione Izzol e. Anche quest'anno il comando di intesa con l'associazione nazionale dei Vigili del Fuoco con il CRAL e con tutti gli altri enti che hanno collaborato primo tra tutti il comune che ha messo a disposizione la piazza e tante altre strutture, siamo riusciti a portare a termine questa iniziativa. Mi auguro di ripeterla anche nei prossimi anni e come dico sempre è un modo di essere presenti nella città è un modo di rapportarsi con la società civile e è un modo di rapportarsi con tutta la collettività nei confronti della quale non soltanto noi forniamo il soccorso tecnico urgente più un'altra serie di servizi istituzionali ma anche queste occasioni che non sono soltanto delle occasioni di tipo ludico, delle occasioni di divertimento.